Rieccoci in studio, in questo momento di fianco a me c'è Gianfranco Paccagnella, direttore industriale di TecnoECA, un'azienda di Campo San Piero. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Allora, prima con il presidente dei giovani industriali vi abbiamo parlato di Made in Padova e una delle aziende vincitrici di Made in Padova è proprio la TecnoECA. Insomma, vi abbiamo spiegato prima, da questa camicia multibottons fino all'ardo di colonnata di cui ci raccontava prima Rodolfo, eccetera. Ora vi facciamo raccontare nello specifico questo prodotto ideato da TecnoECA che è un... ci racconti lei che cos'è, di cosa si tratta? Faccio una premessa, chiaramente, perché la TecnoECA è un'azienda che ha 35 anni di storia, opera nel settore dei forni professionali e nel contesto del forno professionale ha pensato a questo strumento che dal mio punto di vista è eccezionale. Diciamo che ha abbinato il design all'ergonomia e contestualmente... Prego, prego, intanto io dico la regia, non so se è possibile, io ho aperto la pagina, forse riusciamo anche ad inquadrarlo, lei ci racconti, vada. E contestualmente ha portato questo prodotto in tutto il mondo. Portandolo in tutto il mondo, questo ha permesso all'azienda di farsi conoscere per la qualità del prodotto, per la qualità di come cucina il prodotto. Quindi se noi pensiamo a come si può, a che tipo di cibi ci sono, ad esempio in Medio Oriente piuttosto che in Asia, piuttosto che in America, piuttosto che nel Nord Europa, piuttosto che in Africa... Quindi con differenze abissali. Con differenze abissali. Nonostante tutto questo forno riesce a essere qualitativamente un prodotto di altissimo livello. Rispetto, voglio dire, ad altri forni che lei sicuramente avrà visto. Che cos'ha? Qual è il valore aggiunto? Diciamo che è intuitivo come sistema di utilizzo. Ha circa la possibilità di memorizzare 240 ricette. 240 ricette. 240 ricette. Vale a dire che ogni volta lo chef o il cuoco non deve stare là a impostare i parametri di cottura, ma basta che lui lo richiami e automaticamente il forno fa tutto. dall'inizio della cottura al lavaggio finale del forno. Senti, ma non è prevista una versione per le persone normali. Ma guardi che questo forno è talmente semplice, è talmente intuitivo, che anche i bambini potrebbero usarlo. Potrebbero usarlo, però i costi sono proporzionati all'investimento. Però una versione magari per uso comune farebbe comodo, no? Ci sono assolutamente anche le versioni normali, diciamo, che mantengono invariata quella che è la qualità del prodotto. Là interviene molto, molto di più la conoscenza dello chef, ad esempio, perché deve impostare manualmente alcuni parametri. In alcuni altri forni può impostarli parzialmente, poi il forno finisce, tra virgolette, quello che è il lavoro. Però diciamo che questo veramente è il top di gamma. Certo, quindi insomma può dare una grande mano anche ai grandi chef. Poi è chiaro che la differenza la farà sicuramente anche la mano del cuoco, no? La farà la mano del cuoco e la materia prima. Ma lei mi sta dicendo che poi alla fine di tutto il processo il forno è anche pulito? Il forno assolutamente sì, perché ha in automatico un ciclo di lavaggio che va a lavare tutta quella che è la camera di cottura. Anche questo sarebbe interessante per le persone normali, ribadisco. Ecco, senta, un'azienda, dicevamo, la Tecnoeca, che esiste da 35 anni, una sessantina di dipendenti. Certo, una sessantina di dipendenti. Ecco, come si lavora, anche se lei mi raccontava prima mentre c'era la pubblicità, che voi lavorate molto con l'estero. Ma rispetto alla crisi, che è una crisi poi così prolungata, che cos'è cambiato? Perché comunque anche... Diciamo che ovviamente anche noi risentiamo della crisi, soprattutto nel mercato italiano. Però sono convinto che con i prodotti di Tecnoeca riusciamo a sopperire questa crisi. Perché prima di tutto c'è l'azienda davanti, poi viene il prodotto e l'azienda è fatta di persone. Quindi quando l'azienda riesce a proporsi, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale, con un prodotto qualitativamente elevato, sicuramente è vincente. E poi c'è l'entusiasmo dell'imprenditore. Un imprenditore che è veramente entusiasta dell'azienda, del suo prodotto e della crescita che sta avendo, mi ripeto, l'azienda. Ecco, ma a Monte c'è anche un investimento di un certo tipo, che si può fare, se ovviamente c'è la possibilità di farlo. Perché abbiamo sentito anche prima con il Presidente dei Giovani Imprenditori, quale sia la difficoltà per le imprese, diciamo che hanno un mercato forse meno internazionale rispetto al vostro, di investire. Non avere paura, voglio dire, di investire, comunque penso sia un vantaggio, no? Assolutamente sì. Questa è una dote che la signora Lora ha insito, proprio. Tutta la famiglia Lora ha insito questa caratteristica. Ma soprattutto in questi momenti, se riesci a investire, se riesci a automatizzare la produzione, riesci a essere vincente. Quindi automatizzando la produzione vai anche automaticamente a migliorare quella che è la qualità del prodotto. Nell'ideazione di questo forno Touchline, si chiama, giusto? Touch, la linea di forno. Si chiama Touch Control proprio. Touch Control, la linea di forno professionale per la ristorazione, appunto, è ideata, dicevamo, 240 programmi più o meno. 240 programmi installabili nel software, dedicato esclusivamente a questo prodotto. Multilingue, insomma. Chiaramente multilingue, multifunzionali, multifunzionale, come abbiamo detto, può prevedere dalla cottura delle verdure, alla cottura della carne, alla cottura del pane, alla cottura. Si può cucinare di tutto, praticamente. Si può cucinare a vapore o cucinare a induzione. Insomma, si può veramente cucinare di tutto. In questo settore specifico, la tecnologia quanto ha aiutato? C'è stata un'evoluzione, no? È fondamentale. Invece di avere le semplici manopoline, riesci a programmare il tutto e riesci a governare quello che è la modularità degli spazi all'interno della camera di cottura, semplicemente attraverso delle sonde inserite nella camera di cottura e gestite dal controllo. Quindi si può diversificare anche la temperatura all'interno di quello che è la camera di cottura, così come la ventilazione. Ma questo l'ha ideato chi? Cioè, non so, dietro c'è un progetto, c'è il progetto che lo fa di un forno? Diciamo che no, assolutamente. Tecnoec è provvista di un ufficio tecnico, è un ufficio ricerca e sviluppo, dove vengono ideati tutti questi prodotti, sia sotto l'aspetto tecnico, tecnologico, sia sotto l'aspetto del design. Come dicevo prima, c'è un laboratorio che tutti i giorni testa in continuazione dai 3 ai 4 ai 5 forni contemporaneamente. con conseguenti prove di cottura, sia direttamente dai responsabili del laboratorio, che attraverso degli chef dedicati per fare veramente. Quelle 240 ricette di cui le parlavo prima, sono frutto di prove effettuate da chef. Non sono così, insomma, a caso. Assolutamente sì. E sono frutto anche di ricette che arrivano anche da paesi esteri, chiaramente. Quindi le prove non le facciamo. Dovendolo vendere poi all'estero. Non le facciamo solo noi qua all'Italia, ma le facciamo anche in siti dedicati all'estero. Lei mi citava la Francia, piuttosto che l'India, la Germania. In tutti i paesi europei, paesi ex Unione Sovietica, paesi del continente americano, paesi africani. E in tutti questi noi abbiamo dei tester, se così vogliamo chiamarli, che ci aiutano a migliorare quello che sia il prodotto e, in realtà, redigere quelle che sono le ricette. Senta, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederle, quindi, diciamo, è presumibile che molti, anche dei grandi chef, noi magari pensiamo che siano lì ai fornelli in maniera molto artigianale, ma i grandi chef in Italia ce ne sono molti. E' presumibile che usino strumenti, se non proprio il vostro, insomma, simili al vostro. Sempre di più vanno a utilizzare strumenti così evoluti, perché la qualità del prodotto cucinato sicuramente ne trova beneficio. Certo, insomma. E poi, insomma, ci sono anche delle condizioni sanitarie, voglio dire, anche di pulizia. Assolutamente. Bene, allora, grazie a Gianfranco Paccagnella, direttore industriale di TecnoECA, un'azienda importante di Campo San Piero, importante, insomma, perché dà lavoro e investe, e è buon lavoro, insomma, a lei e ai suoi colleghi. Buonasera e grazie di tutto. Grazie. Noi ci vediamo tra poco. Grazie.